Basta a un certo punto c'era chiesto Dice padre ma chi hai? Che c'hai? Che ha un bottone nero? Ah non mi dire niente, è morto un anno Dice ma come è morto un anno? Ma se io ero bello che ti saluta? Ah niente niente Facciamo un arato da casa Vole il primo Vole il 13esimo piano Grazie a D'Amico, al sessore Ma chi dice questa cosa? No D'Amico, D'Amico Dice allora Dice che niente? Un anno Se stavo facendo sai I cicero a bagnapane no? Stavo domando la stufa di letto Che andava in cucina Che allora? E allora niente Ci fu una scintilla Che si prendeva a fuoco la casa Mì Un anno E ora si è bruciato No no Arrivano i pomperi Ah che allora? Niente Dice che arrivano i pomperi E giustamente non potevano accionare Un anno non potevano scendere E si misero da sotto a Cotolone Ah c'è Cotolone Che allora? Un anno ero 13esimo piano E ci dicevano che si abbiasse Che non si voleva abbiare Si abbiasse Non si voleva abbiare No? Basta a un certo punto Si abbiavano Ah e allora Arrivano da sotto E gli ho mosso No no Arrivano un Dottolone Ma allora come ho mosso? E' benvenuto Arrivano un Dottolone Gli ho ribommato Arrivano dei fili per stendere Da signora Rosetta Mobiano Gli ho ribommato Arrivano un Dottolone Gli ho ribommato Arrivano da bancarella Da frutta del vicino Gli ho ribommato Arrivano un Dottolone Gli ho ribommato Ci si mangiama Ma come ho mosso? Ci abbiamo a sparare Gli ho ribommato